Abbiamo tutti paura delle cose che non conosciamo, però possiamo in qualche modo vedere quello che accadrà. Come? Con gli occhi della mente, con quella che si chiama visualizzazione. Domani ad esempio avrai un esame all'università, questo lo dico ai miei studenti universitari. Immagina che entrerai in aula bello sicuro, che il professore sarà sorridente, che ti farà domande a cui saprai rispondere perfettamente e immaginalo intensamente, col senso della vista, dell'udito, a livello emotivo, così domani quando ti troverai veramente davanti al professore in qualche modo ti sembrerà di avere già vissuto quella situazione e noi abbiamo meno paura naturalmente di qualcosa che abbiamo già vissuto, seppure soltanto a livello mentale, immaginario. Provaci, non hai niente da perdere e tutto da guadagnare. Io credo che valga sempre la pena di pensare positivo. Se pensi positivo le cose possono andare bene o possono andare male. Se pensi negativo andranno senz'altro male.